Un'equazione potrebbe oggi caratterizzare la vita dei nostri ragazzi. Un'equazione il cui risultato è purtroppo negativo. Primo elemento di questa equazione è la recente introduzione dello smartphone nelle loro vite, che in poco tempo ne ha travolto stili, convenzioni sociali e riti comunitari. L'uso quasi sempre superficiale di questo strumento, infatti, lo rende troppo spesso un ostacolo all'evoluzione personale e di gruppo. Secondo elemento dell'equazione, i social network, amplificatori di un disagio sempre crescente, in cui si è sempre più abituati a seguire ed essere seguiti, al punto da non riuscire più a godersi un momento felice o triste, senza condividerlo con il mondo. in un meccanismo malato, in cui la condivisione dell'evento diventa l'evento stesso, togliendo così significato e valore ai cambiamenti, ai successi e alle sconfitte, alle relazioni e ai sogni stessi. Come on, I've yet to post my turn, I have a selfie! Joey, aren't you exaggerating? Yes, you're in a bathroom, taking pictures for who? And now the two past and post! La distanza abissale che separa la vecchia generazione dei nativi digitali, rende poi impossibile un monitoraggio efficace sull'uso di queste nuove tecnologie. Oggi ragazzi guarderemo un video. Non ci entra! Lasci farla a me. Ora si vede? Sì, ho cercato il link uploadato in rete. Ho cercato il link uploadato in rete. Beh, bene. Oggi parliamo di innovazione. Vi farò vedere il cortometraggio che Italo Pacchioni firma nel 1896 in funzione documentaria. Si intitola Il finto storpio al castello sforzesco. Ultimo elemento di questa equazione negativa è la copertura totale di una connessione così veloce da raggiungere ormai l'istantaneità consentendo fin troppo facilmente ai nostri ragazzi di sostituire un motore di ricerca al piacere di imparare un'app a un rito sociale. La furbizia alla fatica. Per il ricerca. Per il ricerca. Per il ricerca è un figlio. Mignone, il prebiettere mi ha detto che un garçon italiano che è qui si può qualcuno. Io ho saputo che gli italiani non sono buoni, la lingua è troppo lunga. Il va fallo che io chanque davvero. E voici il platy pic de la maison. Conseguenze nell'immediato? Una caduta precipitosa del livello culturale e della soglia di attenzione ha investito un'intera generazione con pesanti ripercussioni sul piano emozionale e affettivo. Gaveg E ora quegli effetti traumatici si ripercuotono non solo sui nativi digitali ma anche sulle generazioni precedenti che non vogliono certo essere tagliate fuori da questo nuovo mondo virtuale. Un mondo virtuale che livella tutto verso il basso è che molto spesso ci distanzia da ciò che accade nel mondo reale rendendoci incapaci di distinguere i momenti davvero importanti delle nostre vite. Ma che ci frega, ma che ci importa Io sono la luce del mondo Chi crede in me Io sono la risurrezione della vita Chi crede in me Beati voi poveri Perché il boss è il regno di... Ma povera chi? Questo è il phone 15. Evattina. Se qualcuno vuole seguirmi, rinleghi si stesso. Prenda la sua croce e... E basta! Ma quale croce? Non prendiamo nulla, grazie. Non lo vedi? Siamo impegnati. Ma non ce l'hai il lavoro? Vai! Aspetta. Grazie, ora puoi andare. Un pazzo è appena apparsa nella nostra cucina. Pubblica. Babbo, assendimi dai. E inventati qualcos'altro che stavolta non ci muoia per questi. Sì, la tecnologia ha un impatto profondo a livello fisico e psicologico. Influenza il modo in cui affrontiamo la vita, noi stessi e il rapporto con gli altri. Ne parliamo in questo speciale con i nostri graditi ospiti la dottoressa Barco Lucci, medico e fisioterapista. Buonasera. E la dottoressa Massetti, psicologo comportamentale. Buonasera. Bene, partiamo dai problemi fisici. Sembra incredibile che un oggetto così piccolo e leggero possa creare non pochi danni al nostro corpo. Dico bene, dottoressa Bartolucci? Dice benissimo. La dipendenza da internet, social e videogiochi è spesso all'origine di veri e propri problemi fisici. A partire dal danale a vista che la luce blu del cellulare può provocare. Avendo una lunghezza non accorta e una maggiore frequenza di energia può provocare rossore, secchezza, affaticamento, ma anche un mal di testa e di subito solo. È un fenomeno che negli ultimi anni sta iniziando a diventare preoccupante e il cosiddetto palice dello smartphone. La posizione che la mano assume per scrivere messaggi e email sul telefono è infatti spesso a caso di artrosi. Ma nemmeno il collo è un'immunità di effetti negativi che un uso accessibile dello smartphone può provocare. Assumere la posizione tex-nec può portare a dolore al collo o all'intorpidimento della schiena, ma anche nei casi più gravi all'inversione delle curve della corona vertebrale. E infine la tendenza al polso. Tenere per troppo tempo in mano il telefono può infatti favorire l'insorgere del colso problema poiché i tenderi vengono eccessivamente sollecitati fino in alcuni casi a infiammarsi. Esatto. E poi ci sono tutte quelle conseguenze psicologiche dovute a un eccessivo utilizzo di telefoni, computer e soprattutto social network. Giusto, Odore Stavassetti? Esattamente. Sono infatti gli inevitabili veicoli del cyberbullismo, una piega sociale dilagante in tutto il mondo, ma inesistente solo fino a pochi anni fa. Un recente studio su 1.500 giovani dagli 11 ai 25 anni hanno rivelato che social network suscitano un senso di ineguatezza e generano ansia, visto che portano ad un continuo confronto tra i propri stili di vita e quello degli altri. È stato raccolato che il 53% di chi utilizza lo smartphone manifesta stati d'ansia. Tutti i preditori significativi di depressione. Problemi fisici. Ansia, dipendenza, depressione e già fra giovanissimi. Tutto questo non esisteva prima dell'area di internet. Un consiglio degli esperti? Operazione Burritos Ma che sole? Molto calore. Pedro, mi buschi un'estate? Cos'è? Mi ral dittà? Pestoso messicano. Pedo gordo. Pestoso messaggio. Sì! Grazie a tutti. 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 Non funziona! Qualcuno ne comprende la cagione? Forse la rete Wi-Fi è l'overload e basta fare un resetto. O il driver dell'adattatore Wi-Fi è vecchio. Magari ci sono problemi col provider del network. E se invece fosse obsoleto il firmware del router wireless? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dov'altro luogo? E che stanno dicendo adesso? Forse la rete Wi-Fi è vecchio. E per voi portare un dott'anno? E aspettare un momento di più. Siamo arrivati a scuola? Da dieci minuti staccatevi da quei cellulari, no? Ha ragione papà, così perdete la vita. Finisco un video e vado. Va bene, ma fai presto. Dai che noi adulti dobbiamo andare al lavoro. Mamma, ma che foto posti. Ora ti banno, te la sei cercata? A voi prende? No. Non c'è rete, che facciamo? Guardate intensamente l'icona della rete e tornerà. Funziona sempre. Dovita? No. Ragazzi, che facciamo? Ma come parli? Scusate. Che facciamo ora? Andiamo a mangiare con la pizza o no? E dove sta? Senza mappa sono perduto. Vero, restiamo qui in attesa che torni il segnale, no? E nel frattempo? Parliamo un po'. Perché no, dai? È una bella idea. E nel bubarte da fosse! E nel bubarte da fosse! Senara, look me! no do this no non 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 Sì, siamo cercati. Ok, spara tutto quello che sei in francese. Stamite è più facile. Tu non appartisci più di nourritura. Sì, sono Caterine di neve. E voi sentite bene? La peste sarà più buona in mangiare le tartofone. Non funziona papà. Qualcuno ha sbattuto le palpebre? Io? Ecco, ora sappiamo chi è che ci sta facendo perdere tempo. Non bisogna mai sbattere le palpebre mentre si fissa un'icona. Lo sanno tutti, tutto da capo. No! 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 E vabbè, studio. Bello! Mi piace un sacco la break. Anche a me. Io non sono capace, nemmeno io. Beh, allora insegnaci tu. Sì, tanto senza riti abbiamo il pomeriggio libero. Perché no? Dai, tutti in piedi. Allora, il primo passo è molto semplice. Bisogna fare in questo modo. No! No! Don't cry, my little baby. And see what happens when you turn off your phone. I find just the stuff that I need. And not that of a stranger, but that of your friends. Repeat with me. Non, 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 non D'accordo, fanciulli, d'accordo! Ma tenne a tosè, je suis d'un île, on s'ho, il se est, il se est ! We are revolting children, living in revolting times We'll sing revolting songs, using revolting rhymes We'll be revolting children, till our revolting's done And we'll have the choice, revolting we're revolting We will become a screaming port! Take out your hot stick and use it as a sword! We'll find out where the tronk is stored, and saw the pictures on the ball If you don't see a shushing, we're revolting! We can let's beat out how we like, if enough of us are wrong, wrong is right Everyone, N-O-R-T-Y, we're a little bit naughty, so we ought to stay inside the line If we disobey at the same time, there is nothing that a trunchbull can do You can take a hammer and exit too! Find us all, we were weak, but we're strong Find us all, we were afraid, but you're wrong Because you finally pushed us too far So let's go back Because we are B-R-E-V-O-L-T-I-N Revolting time! Still S-I-N-G Stop! U-S-I-N-G You'll be R-E-V-O-L-T-I-N-G It is 2-L-A-V-O-L-T-I-N-G It is 2-L-A-V-O-L-T-I-N-G We are revolting children living in revolting times We sing revolting songs, using revolting minds We'll be revolting children till our revolting stands It is 2-L-A-V-O-L-T-I-N-G We are revolting children living in revolting times We sing revolting songs, using revolting minds We'll be revolting children till our revolting stands It is 2-L-A-V-O-L-T-I-N-G We are revolting! It is 3-L-A-V-O-L-T-I-N-G 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 Pedro, ma che sole? Zé, molto calor. L'euro per brevi periodi, per poi allungare questi tempi durante il corso dell'anno. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì fisici, ansia, dipendenza, depressione già fra giovanissimi, tutto questo non esisteva prima dell'area di internet. Un consiglio degli esperti? Straccarsi dal telefono per brevi periodi, per poi allungare questi tempi durante il corso dell'anno. Disintossicatevi gente! E con questo il nostro stagione finisce qui. Ci vediamo domani su tutti i vostri dispositivi! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ciao! Grazie! Grazie, José! Il cellulare duele, Pedro. Te gusta il regalo? José, mira il dittor! Grazie! 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 Grazie!